Quella con il Giuliano, ai più, è sembrata l'ultima chiamata per la permanenza del Brindisi in Serie C. Una squadra che non ha risposto presente in una gara che si era messa in discesa dopo l'espulsione al 17esimo del primo tempo di un giocatore avversario. Pochi i tiri nello specchio della porta, non sufficienti e precisi tanto da permettere ai Biancazzurri di conquistare la vittoria tra le muramiche del Fanuzzi. Con il secondo pareggio consecutivo di fatto la striscia negativa si allunga e lo spettro retrocessione si avvicina sempre più. Fino a quando la matematica non ci condanna dobbiamo crederci da professionisti quali siamo, aveva detto lo sacco al termine della partita con il Giuliano. L'impegno però ormai può non bastare e il gruppo a disposizione dell'allenatore del Brindisi ha evidenti limiti tecnici ormai sotto gli occhi di tutti. Sabato i brindisini sono attesi da una gara sulla carta proibitiva. Sulla strada di vantaggiato e compagni infatti c'è la corazzata Avellino. Intanto l'attenzione della città sportiva si è già spostata sul futuro della società. Si attendono novità che come anticipato dal vicepresidente Damiano Pozzessere potrebbero arrivare nelle prossime ore. Il timore è che anche questa volta non arrivi nessuno al capezzale del Brindisi e che possa svanire tutto per l'ennesima volta. Risponderà il tessuto e imprenditoriale della città all'appello del vicepresidente Pozzessere. Ci sarà un'accordata che rileverà la società dalla famiglia Arigliano disposta a pare accedere anche a costo zero o quasi. La fideiussione infatti è l'unica somma di denaro di cui gli Arigliano vorrebbero tornare in possesso. Non resta dunque che attendere per capire da dove e soprattutto da chi ricomincerà il Brindisi. È solo questione di giorni e poi si aprirà un nuovo capitolo e forse una nuova era del calcio in riva all'Adriatico.